Lasciateci cambiare, sistema monetario, lasciateci votare per la moneta intera. Buongiorno Svizzera con potenti banche, che fanno crescere i debiti estremamente, così la nostra democrazia perde ogni giorno sovranità. 90% dei franchi non sono legale, solo 10 vengono alla banca nazionale, e i politici fanno esattamente il contrario di quello che fa bene. Buongiorno Svizzera, buongiorno ticinesi, benvenuta a moneta intera, il 10 giugno. Lo sai che voto anch'io, lasciateci cambiare, sistema monetario, tutti svizzeri seri votano per franchi veri. Questi banche grandi con corruzione e scandali creano soldi senza corso legale, così tutti i dipendenti perdono miliardi con quel sistema. Sul tuo conto non ci sono franchi, la DNS fa solo i contanti, e i mass media ci distraggono ogni ora, tale essenziale. Buongiorno Svizzera, buongiorno ticinesi, benvenuta a moneta intera, il 10 giugno. Lo sai che voto anch'io, lasciateci cambiare, sistema monetario, tutti svizzeri seri votano per franchi veri. Lasciateci cambiare, sistema monetario, lasciateci votare, per la moneta intera.